Nella nostra regione sono state numerose le dosi di vaccino già somministrate di AstraZeneca ed appartenenti a un lotto su cui l'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il blocco, a seguito delle tre morti sospette avvenuti in Sicilia. Una sospensione che è arrivata nonostante non sia ancora stato provato un nesso di causalità tra decessi e vaccino. Anche in Abruzzo, come nel resto d'Italia, i carabinieri del NAS dopo il blocco dell'AIFA hanno eseguito al sequestro delle dosi rimanenti. C'è stato un po' di agitazione e anche un po' di ansia, però noi oggi ci dobbiamo basare sulle evidenze. L'evidenza è che gli organi preposti hanno soltanto deciso il ritiro delle dosi vaccinali indicate, quindi la vaccinazione con AstraZeneca continua. Gli eventi avversi che fino ad oggi la farmacovigilanza ha rilevato sono limitati a febbre e a mal di ossa e qualche altro fenomeno, ma assolutamente di grado lieve e limitato a poche decine di persone rispetto ai migliaia di vaccini che sono stati fatti. Non ci sono indicazioni su attività da svolgere anche a un punto di vista di esami dal Ministero o dall'AIFA sulle persone vaccinate. È vero che noi a Teramo in particolare, ma anche all'Aquila Chieti, abbiamo avuto questo lotto di vaccini che sono stati somministrati, ma ad oggi non ci risulta nessun evento avverso, per cui io aspetterei che chi è preposto a questo stabilisca se c'è un nesso di casualità tra l'assomminazione del vaccino e quello che è accaduto, perché di questo poi si tratta. E questo è un compito che sta svolgendo gli organi preposti e sovraordinati, quindi dobbiamo attendere. Noi continuiamo la vaccinazione perché non è stata sospesa con le dosi di AstraZeneca che abbiamo nelle nostre farmacie. La regione si sta continuando a vaccinare un po' in tutte e quattro le altre seguendo quelle che erano le indicazioni fino ad oggi. Quindi cerchiamo di terminare la scuola in questo fine settimana, ci sarà sicuramente qualche cosa, ma come c'è sempre, si continua a vaccinare gli ultrottantenni e le forze dell'ordine sono terminate, ci sono alcune code, però anche lì insomma siamo avanti. Per quanto riguarda invece l'Adviteramo, noi questo fine settimana diciamo terminiamo tutte le categorie che avevamo iniziato, ci prepariamo alla vaccinazione dei soggetti fragili, in particolare dei disabili, a partire fin dalla prossima settimana, ovviamente sempre con la condizione che non cambia mai che è quella della disponibilità dei vaccini, però insomma su questo ci stiamo organizzando.